48 migranti sudanesi, in parte respinti alla frontiera e in parte fermati a 20 miglia, sono stati trasferiti in autobus da 20 miglia a Torino per essere direttamente rimpatriati nel loro paese d'origine. Si tratta della prima espulsione diretta di questo genere, che ha portato ad un'ulteriore riduzione del numero di migranti presenti nel centro di accoglienza del Parco Roia, nel quale le presenze si attestano sotto le 400 persone. Il rimpatrio forzato dei migranti sudanesi ha però scatenato le critiche del responsabile della Caritas ventimigliese, Maurizio Marmo, che ritiene sconcertante e incomprensibile che il governo italiano abbia potuto stringere un accordo con il governo sudanese, noto per la violazione di diritti umani e la limitazione delle libertà fondamentali del popolo. Marmo ha espresso sdegno e frustrazione per le 48 espulsioni avvenute a 20 miglia.